Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video riprendo una tematica che avevo affrontato in un video nel passato. Questa tematica è Bitcoin, la criptovaluta Bitcoin. E nello specifico, io ho già fatto un video su Bitcoin, metterò il link in descrizione. E nel video andavo a leggere e ad analizzare, essenzialmente a studiare, il peper originale di Nakamoto. Disponibile su bitcoin.org slash bitcoin.ptf Questo peper è molto breve ma ha tante idee, quindi è molto denso di idee. E nello specifico, una di queste idee era l'idea della proof of work. Quindi in questo video voglio analizzare la proof of work a livello implementativo. Ovvero, perché abbiamo bisogno della proof of work, in cosa consiste la proof of work e come possiamo implementarla con un esempio semplice. Ovviamente non implementeremo proprio la proof of work esattamente nel modo in cui è implementata in Bitcoin. Ma daremo un'idea computazionale. Quindi ho scritto questo codice in Python e in parte ho preso dei riferimenti da questo libro, Bitcoin Book. Molto interessante, consiglio della lettura. Metterò il link in descrizione. Quindi fondamentalmente in questo codice noi definiamo un block header, che sarebbe poi la struttura che contiene tutti i metadati presenti nella blockchain. Ovvero la blockchain è fatta di blocchi, ciascun blocco ha un block header, ha un proprio header, con dei metadati fondamentali. Ora, a partire dai metadati presenti nel block header, quello che si fa è tramite la proof of work si va a calcolare il nonce che fa rispettare un certo target. Quindi fondamentalmente il processo è questo qui, è questo proof of work, è questo algoritmo. Come vediamo, sono veramente poche righe di codice. Sono più o meno 18 righe di codice che vanno ad implementare il lavoro svolto dalla proof of work. E poi in questo video faccio vedere un po' di measurement, un po' di tempistiche, per far vedere fondamentalmente come funziona. E quello che si vedrà è che man mano che questi cosiddetti difficulty bits aumentano, diventa sempre più difficile ottenere un'announce valida rispetto al proprio obiettivo. Ed infatti l'idea appunto di bitcoin è che il modo in cui il consenso è ottenuto in questo sistema decentralizzato è proprio tramite il, diciamo, questo tipo di votazione che si basa sulla potenza computazionale. Quindi ogni 10 minuti viene risolto questo problema computazionale e la difficoltà di questo problema viene cambiata in modo dinamico a seconda di vari parametri. Quindi tutto questo poi parlerò più in dettaglio nel video. Quindi questo codice fa vedere che man mano che i difficulty bits aumentano ci vuole sempre più tempo per ottenere questo particolare hash. E questo particolare hash è ottenuto tramite un'announce, una specifica annonce e fondamentalmente rappresenta proprio la proof of work, ovvero la dimostrazione che abbiamo effettuato del lavoro computazionale ed è necessario poi per convalidare il blocco, per inserirlo nella blockchain e conseguentemente per validare tutte le transazioni presenti nel blocco. Quindi sarà un video molto pratico in realtà, parlerò poco di teoria giusto per inquadrare dove si trova il concetto di proof of work e poi scriveremo questo codice. Spero che il video sia interessante, se avete del feedback lasciatelo nei commenti e buona visione. Ora per iniziare possiamo leggere velocemente qualche appunto che avevo preso durante la lettura del libro, questo qui, The Bitcoin Book. Bitcoin Book, metto il link in descrizione, molto molto utile, è tutto open source, tutto gratis. In particolare nel capitolo 12, che parla del mining, parla anche della proof of work. E quindi possiamo iniziare. Inizia. Mining is one of the mechanism by which Bitcoin consensus security is decentralized. Ovvero, la differenza, ciò che distingue da un punto di vista proprio fondamentale Bitcoin da per esempio una valuta classica, è che nella valuta classica c'è una banca centrale che va a fondamentalmente validare tutte le transazioni. Quindi è in grado di controllare tutte le transazioni, ha un database unico controllato solo dalla banca e quindi questo ha senso. Invece in Bitcoin non c'è un'unità centrale che ha più potere ed ha accesso a dati confidenziali. Quello che succede fondamentalmente è che abbiamo un network decentralizzato quindi vuol dire che è distribuito e non c'è fiducia tra i nodi inizialmente quindi tutti i nodi non sanno con chi si stanno connettendo non sanno se gli altri nodi della rete sono nodi buoni che seguono il protocollo oppure nodi malevoli che vogliono per esempio rubare valuta. E quindi qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale che è stato poi diciamo una delle rivoluzioni di Bitcoin dal punto di vista di ricerca dei sistemi distribuiti e decentralizzati è proprio il fatto che come si riesce ad ottenere del consenso ovvero come si arriva ad una decisione comune considerando il fatto appunto che io non mi fido degli altri nodi. E l'idea fondamentalmente è questo tramite il mining ovvero tramite questa proof of work Mining secures the Bitcoin system and enables the emergence of network while consensus without a central authority ovvero tramite questo meccanismo, questa procedura di mining che poi è implementata tecnicamente nella proof of work siamo in grado di arrivare ad una decisione che è fatta in modo decentralizzato ma che tutti i nodi poi sono d'accordo. The reward of the newly minted Bitcoins and transaction fees is an incentive scheme that aligns the action of the miners with the security of the network. Quindi in realtà il mining ha sia un effetto di generare nuova valuta perché quando un miner effettua la proof of work in modo diciamo di successo ottiene anche dei nuovi soldi e questi soldi sono ottenuti in parte dalla creazione di nuova valuta ed in parte da delle fee presenti nelle transazioni. Quindi il miner ottiene i soldi in questi due modi. Ora dal punto di vista dei soldi creati da zero fondamentalmente la quantità di Bitcoin è limitata quindi prima o poi questa terminerà quindi arriverà a zero e quindi tutti i soldi, tutto l'incentivo del mining sarà proprio nelle fee delle transazioni. Quindi però qual è l'idea? Ma stiamo attenti perché il fatto che durante il mining il miner, ovvero chi fa questa proof of work ottiene dei soldi in realtà non è lo scopo principale del mining. Lo scopo principale del mining è proprio quello di effettuare questa proof of work per arrivare ad un consenso decentralizzato. Ovviamente però per arrivare a questo consenso decentralizzato serve effettuare questa proof of work. Questa proof of work costa, costa elettricità, costa veramente tanta energia da questo punto di vista e quindi ci devono essere degli incentivi cioè un nodo deve essere incentivato a partecipare in questa competizione computazionale altrimenti chi le lo fa fare? Cioè perché un nodo dovrebbe fare il mining? E quindi come incentivo si introduce il concetto appunto di fee per le transazioni e di creazioni di nuova valuta. Infatti questi sono le reward new bitcoins, chiamato subsidy e poi le transaction fee per ogni transazione. Ovviamente per ottenere questa reward però il nodo, il singolo miner, deve completare una challenge, una sfida e questa è una sfida puramente computazionale che viene chiamata proof of work. Come vedremo quando implementeremo il codice in Python l'idea fondamentalmente di questa sfida è calcolare tante volte la funzione hash su un dato di input cambiando questo input di poco a poco per ottenere un determinato valore in output e il valore in output deve avere un numero specifico di 0 iniziali quindi fondamentalmente deve essere un numero più piccolo di un target se io riesco a calcolare un numero più piccolo di un target tramite la funzione hash ho risolto la challenge, ho risolto la sfida qual è però il fatto? Il fatto è che tipicamente questo richiede tante computazioni il tempo in media per risolverla sono 10 minuti quindi ogni 10 minuti qualcuno la risolve però in generale per risolvere questa challenge io devo pagare devo pagare con un effort computazionale e questo è un fattore fondamentale e qui continuo How can everyone in a network agree on a single universal truth? One of the another invention is the centralized mechanism for emerging consensus quindi appunto quello che ho detto prima cioè che appunto il ruolo del mining è quello di arrivare ad un consenso decentralizzato e fondamentalmente questo consenso decentralizzato esce fuori dall'unione di 4 diversi fattori il primo è che ciascun nodo ciascun full node quindi il nodo con tutto il database da blockchain fino all'inizio è in grado di verificare in modo indipendente tutte quante le transazioni tramite dei criteri criptografici e di struttura dei dati fondamentalmente quindi questo lo può fare ogni nodo in modo indipendente quindi non c'è un nodo che può verificare e un nodo che non può verificare una volta che ho tutta la storia delle transazioni un full node posso verificare tutto al 100% e mi posso unificare di me stesso dopodiché c'è questi nodi mining che fanno prendono le transazioni che ancora devono essere verificate quindi quelle che stanno girando nella rete le mettono assieme in dei blocchi e poi calcolano il proof of work per andare a finalizzare l'header del blocco una volta che hanno calcolato questo header finalizzano il blocco e lo cominciano ad annunciare a tutti gli altri nodi della rete quindi così facendo la blockchain si incrementa di un nuovo blocco e quindi questo è il lavoro che fanno i miner independent verification of the new blocks per every node and assembly into the chain ovviamente quando questi nuovi nodi vengono verificati c'è proprio un meccanismo di controllo della serie quando il miner dice guarda ho trovato un nuovo blocco ho creato un nuovo blocco tutti i nodi sono in grado di capire se quel blocco va bene e questo è fondamentale e infine il pezzo finale è che dato che comunque la rete è decentralizzata ci possono essere delle network ci possono essere delle inconsistenze per cui un nodo magari può avere due chain che poi continuano in due modi diversi perché il blocco che mettono dopo quell'ultimo confermato è diverso perché lo ricevono magari in tempi diversi ora a questo punto di vista per cercare di togliere questa ambiguità quello che si fa è si aspetta fino a quando diciamo una chain supera l'altra in termini di lunghezza quindi si utilizza la chain che contiene la maggior parte del proof of work questo perché la chain più lunga fondamentalmente è la chain in cui la maggior parte dei miner ha deciso di investire il proprio potere computazionale e quindi è quella che contiene più risorse computazionali e spese fondamentalmente questo perché è fondamentale? è fondamentale perché tramite questo meccanismo di scambiare fondamentalmente il potere computazionale per ottenere il consenso quello che si permette di fare è si permette di avere un consenso che è resiliente ad attacchi e in particolare fin tanto che il 50% del potere computazionale è controllato da nodi buoni quindi anzi il 51% fin tanto che il 51% del potere computazionale è controllato da nodi buoni prima o poi anche un nodo dell'attaccante che magari vuole tra virgolette rubare dei bitcoin comunque vuole fare delle cose che vanno oltre le regole del protocollo anche il nodo dell'attaccante prima o poi la sua chain la chain che lui potrà creare da solo sarà più corta di quella creata dalla community perché appunto alla fine quello che conta è quanto potere computazionale hai se tu hai più potere computazionale sei in grado di creare catene più lunghe e se la community onesta è il 51% comunque è più della metà fondamentalmente più della metà della rete prima o poi sarà in grado di vincere la competizione con qualsiasi attaccante quindi ovviamente l'assunzione per la correttezza è che un attaccante non è in grado di avere più del 50% di potere computazionale ma questa è una buona assunzione perché si assume tramite appunto l'assunzione principale fatta da Nakamoto è che il potere computazionale è una risorsa abbastanza distribuita abbastanza uniforme rispetto ai vari alle varie entità in gioco anche se io ho entità potenti comunque queste entità potenti tipicamente hanno risorse abbastanza equilibrate tra loro quindi che so un'entità potente americana un'entità potente cinese ovviamente magari non hanno proprio le stesse risorse ma la differenza tra queste risorse non è poi così estrema non è che tipo la Cina può controllare il 70% e il 30% gli americani perché sarebbe una differenza estremamente significativa assumendo che queste differenze estremamente significative non esistono è un'assunzione teorica la proof of work garantisce che la maggior parte fondamentalmente della community lavorerà sulla catena quella legittima quella su cui uno si può affidare e questo poi nel tempo fondamentalmente vuol dire che ogni volta che io valido un blocco sto garantendo per tutti i blocchi precedenti quindi più o meno questa è molto velocemente l'idea nel video su bitcoin è tipo di due ore e passa parlo molto più in dettaglio di come funziona qui appunto voglio fare solo un zoom in sul processo di proof of work ora come si fa a costruire questo blocco cioè come si costruiscono questi blocchi allora la costruzione dei blocchi avviene in due step la prima è la costruzione di tutte le transazioni all'interno del blocco e questa fondamentalmente viene messa in una particolare struttura dati chiamata un mercle tree un mercle tree che è una struttura dati alborea con una specifica struttura alla fine però di questo mercle tree quello che si calcola è la cosiddetta root la mercle root la cosa utile della root è che tramite la root siamo in grado di verificare se una data transazione è presente in questo mercle tree quindi è estremamente utile in modo veloce cioè noi abbiamo abbiamo la struttura mercle tree abbiamo la root abbiamo la transazione che vogliamo analizzare e tramite diciamo unendo queste cose possiamo verificare se una transazione è presente nel blocco fondamentalmente quindi ci sta tutta la parte di prendo le transazioni e le strutture in questo albero in questa struttura dati che non ci interessa in questo video perché è uno step prima della proof of work a questo punto io sono in grado di calcolare questi valori e questi valori formano il block header che sono la versione del protocollo utilizzata quindi la versione di bitcoin l'hash del blocco precedente questo è fondamentale per ottenere questa blockchain perché? perché io in ogni blocco metto l'hash del blocco precedente ovvero ogni blocco sta dicendo guarda attaccami a questo blocco e questo crea proprio tutta questa catena criptografica dopo di che metto questa mercol route che va ad identificare in un modo efficiente in termini di spazio tutte le transazioni è un modo che io poi posso utilizzare in futuro per verificare la presenza di una transazione all'interno del blocco poi metto il timestamp di creazione del blocco anche questo è fondamentale ovviamente per poterle ordinare in un senso temporale poi ho target e nonce ora target e nonce hanno a che fare proprio con la proof of work perché sono fondamentalmente quei parametri che mi vanno a determinare che vuol dire questa proof of work e quindi questa è la struttura dati che rappresenta fondamentalmente il block header poi torneremo quando andremo ad analizzare il codice quindi appunto l'idea è che il mining ovvero il proof of work è quel processo computazionale che cerca di trovare il valore corretto per la nonce in modo tale da far rispettare all'hash del blocco un particolare target quindi il target è un livello di difficoltà che vogliamo raggiungere noi facciamo l'hash del blocco se questo hash rispetta il target abbiamo risolto la challenge altrimenti abbiamo una manopola da modificare per fare un altro tentativo che è la nonce quindi una nonce non funziona creiamo un altro nonce cioè facciamo un più uno alla nonce riproviamo facciamo un altro più uno fino a quando l'hash del blocco rispetta la challenge imposta dal target e notiamo che nell'hash noi consideriamo pure il target e questo è fondamentale altrimenti uno potrebbe cambiare il target dopo che abbiamo finito la proof of work assolutamente no tutto questo c'è un cryptography binding ovvero c'è un vincolo cryptografico che permette poi ai nodi successivi di verificare che questo processo è stato calcolato correttamente e che nessuno ha mentito rispetto appunto a soddisfare questo vincolo di proof of work quindi mining is the process of hashing the candidate block header repeatedly changing one parameter the nonce quindi il parametro che noi cambiamo è il nonce until the resulting hash matches a specific target e la variabile che utilizziamo per avere il controllo su questo è il nonce the nonce is used to vary the output of a cryptographic function e la funzione che utilizziamo per calcolare l'hash è l'hasha256 cioè fondamentalmente quello che noi vogliamo fare per esempio in bash io posso fare questo for nonce in sec di 100 cioè che mi va da 0 a 100 e mi stampa l'hash di hello world con la nonce e notiamo appunto che in questo caso noi abbiamo tutta una serie di hash e poi c'è questo in particolare che ha uno 0 qui e fondamentalmente quello che noi cerchiamo di fare è trovare hash con un determinato numero di 0 più 0 sono e più difficile sarà la ricerca meno 0 sono e meno difficile sarà la ricerca ora la cosa importante da capire è che anche se non possiamo sapere a priori quando il processo terminerà perché è un processo che può essere modellato in modo statistico in modo probabilistico l'idea qual è è che noi sappiamo cioè qui che sta dicendo sta dicendo che anche se non sappiamo esattamente con una precisione deterministica quando questo processo terminerà ovvero quanti tentativi dovrò fare prima di trovare il risultato atteso andando a lavorare sul target andando a specificare un livello di target che viene fatto proprio a livello protocollare quindi questo non è il singolo che decide è il protocollo che decide e tutti sono d'accordo sul valore del target bene il target mi va a specificare un certo livello di difficoltà e il livello di difficoltà corrisponde a più o meno 10 minuti di lavoro dove ovviamente questo viene cambiato a seconda del tempo perché a seconda del tempo l'hardware diventa più performante il software diventa più performante e via dicendo e quindi devo andare a lavorare su questo target per fare in modo che questa ricerca in media richiederà 10 minuti di tempo poi le singole volte potrebbe richiedere 11 minuti 12 minuti 13 minuti ma fondamentalmente più mi allontano dai 10 minuti e più improbabile diventa la mia ricerca nel senso è estremamente improbabile metterci un'ora perché? perché proprio a livello statistico le probabilità dopo 30 minuti sono talmente alte che prima o poi ti capita quindi questo è un ottimo esempio di utilizzo di statistica per controllare processi randomici in cui io non posso controllare il singolo dato la singola particella il singolo nodo ma il comportamento aggregato invece è molto è molto ben strutturato fondamentalmente è una struttura che io invece posso modellare a livello statistico a livello matematico e quindi su quella posso controllarla e fondamentalmente è quello che succede su bitcoin e da questo punto di vista è estremamente affascinante the proof of work must produce a hash that is less than the target a higher target means it is less difficult a lower targets means it is more difficult quindi fondamentalmente il target mi dice guarda io devo fare l'hash dell'header del blocco e questo hash deve essere più piccolo di un determinato target se non è più piccolo non è una buona proof of work devo continuare ovvero devo calcolare un nuovo block header per calcolarmi un nuovo block header vado a lavorare sul valore del nonce quindi il nonce fondamentalmente è appunto quella manopolina che mi permette di far continuare questo processo quindi in codice e poi tutto questo come si traduce che ho implementato appunto una semplicissima implementazione di una proof of work molto limitata in python ho preso come appunto come riferimento il libro the bitcoin book quindi questo metto il link qui è open source lo consiglio a tutti in particolare il capitolo sul mining fondamentalmente questo capitolo e quindi come funziona questo codice allora qui abbiamo il max nonce e il max difficulty allora il max nonce è 2 alla 32 perché abbiamo un valore a 32 byte fondamentalmente quindi sarebbe da 0 a 2 alla 32 e meno 1 quindi magari qui possiamo mettere meno 1 ma tanto di python loop comunque lo diciamo va bene così va bene così la max difficulty è 1024 quindi abbiamo al più 1024 0 ma questo ovviamente non la raggiungeremo mai poi abbiamo questa data class che rappresenta una classe ma fondamentalmente questa classe ci interessa proprio come struttura dati come un insieme di dati e questi insieme di dati sono appunto la versione il timestamp il target il nonce il previous e il mail call root dove il mail call root è quella è quella l'hash che fondamentalmente mi racchiude informazioni sulle transazioni presenti nel blocco mentre il previous è l'hash del blocco precedente il nonce invece è la manopolina che io posso manipolare per finire questa proof of work e poi tutti gli altri il target pur a che fare con la proof of work il timestamp è il quando faccio il mining del blocco e via dicendo quindi questa fondamentalmente è l'idea ora come faccio a fare questa roba per fare questa roba la funzione principale è questa proof of work infatti qui nel codice ho un if name main che chiamo main il main chiama varie volte la proof of work con diversi livelli di difficoltà quindi parto da 0 arrivo a max difficulty meno 1 e di volta in volta mi vado a misurare il tempo e la quantità di hash che io faccio in quel particolare tempo quindi fondamentalmente questo è tutto codice per fare un pochino di profiling molto molto semplice non preciso e via dicendo e qui fondamentalmente io mi vado a calcolare il target rispetto a difficulty bits per esempio se io ho 0 difficulty bits ok che vuol dire vuol dire che il target diventa 2 alla 256 e basta e quindi io devo avere un valore minore di 2 alla 256 e ovviamente questo è molto facile perché? perché 2 alla 256 è un numero enorme e quindi fondamentalmente va bene così cioè non posso fare altrimenti quindi lo becco sempre se però comincio ad avere per esempio difficulty bits che io ho fondamentalmente tipo 100 bene a questo punto il mio hash deve essere più piccolo di 2 alla 156 e quindi qua diventa molto più difficile perché ci sono molti più numeri che non rispettano questo vincolo quindi fondamentalmente si lavora in questo modo quindi qui come max difficulty in realtà mi basterebbe 256 256 perché poi quando arriva a 0 nessuno è più piccolo di 0 e quindi va bene così dato che lascia un valore positivo perfetto quindi questo qui sarebbe 2 vabbè sarebbe 1 perché 256 è meno 256 fa 2 alla 0 che sarebbe 1 ma sti cavoli sono considerazioni che non ci interessano quindi fondamentalmente questa difficulty bits mi va a determinare il target e questo mi va a determinare fondamentalmente quanto sarà difficile risolvere questa proof of work perfetto ma qual è il codice di questa proof of work e il codice è questo molto molto semplice che cosa facciamo andiamo ad iterare sul nonce partiamo da 0 e arriviamo a max nonce meno 1 per ogni nonce che facciamo lo settiamo nel blocco quindi stiamo modificando il blocco per metterci il nonce codifichiamo tutto in byte quindi faccio uno str per avere la stringa e poi faccio un code per passare dalla stringa ai byte perché devo fare questa cosa? devo fare questa cosa perché le funzioni hash sono definite solo sui byte quindi se io voglio calcolare la funzione hash devo trasformare la mia struttura dati in una sequenza di byte e questo processo è anche detto serializzazione serializing perfetto una volta che ho serializzato la mia struttura dati questo ovviamente dipende da come la rappresento in questo caso l'ho fatta molto semplice concatenando i vari elementi trasformando le stringhe ovviamente poi nel client ufficiale di bitcoin questo è specifico al linguaggio che se non sbaglio è scritto in C++ quindi poi qua ci sono una serie di dettagli implementativi ma fondamentalmente l'idea struttura è ho la mia struttura dati la serializzo in byte e mi calcolo l'hash l'hash lo calcolo con hashlib.ca256 e poi mi prendo il digest questo digest lo trasformo in un numero infatti dico base 16 quindi a partire dal digest lo trasformo in un numero e poi faccio questo confronto dico ma il numero che ho ottenuto è più piccolo del target salvato nel block header dove questo ovviamente dipende dal difficulty bits se questo è vero ecco che ho ottenuto la mia proof of work ho avuto un successo mi stampo la nonce mi stampo l'hash e li ritorno altrimenti se non ho avuto successo fallisco dopo questa quantità quindi se poi fallisco incremento il timestamp e ci riprovo fondamentalmente quindi andiamo ad eseguire molto molto semplice faccio python pow quindi come possiamo vedere qui i primi bits li fa subito cioè non ci mette niente e poi comincia a rallentare tipo già 20 sta rallentando questo perché questo perché se noi consideriamo tutti gli output che ci fanno avere una proof of work di successo quello che succede fondamentalmente è che all'inizio come ho detto il vincolo è estremamente banale a superare cioè il vincolo è deve essere un numero minore di 2 alla 256 ma 2 alla 256 è un numero astronomico è enorme quindi è molto semplice superare questo vincolo ma man mano che io sto abbassando questo numero 255 254 cioè la quantità di numeri che sono più piccoli di questo numero che sta sempre più diminuendo diminuisce fondamentalmente qui è proprio la questione di trovare il numero corretto il modo ovviamente in cui trovo questo numero non è semplicemente facendo 1 2 3 e 4 ma bensì è calcolando una funzione hash una funzione hash basata su una struttura dati che è l'header del block quindi header block quindi questa determina e dipende fondamentalmente da tutta una serie di metadati e la cosa figa delle funzioni hash è che se io faccio l'hash di 1 o l'hash di 2 io ottengo dei valori completamente diversi quindi vuol dire che io non ho un modo a priori per sapere come il blocco è mappato negli output della funzione hash ogni volta questo output è fatto in modo praticamente randomico e quindi ogni volta questa ricerca io non la posso non posso semplificarmi la vita devo effettuare tutto questo lavoro per questo fondamentalmente questo tipo di consenso è chiamato proof of work perché? perché per ottenere questa challenge per risolvere la challenge io devo inevitabilmente fare del lavoro qui si tratta ovviamente di lavoro computazionale e appunto l'idea è perché io voglio che il consenso debba essere vincolato al potere computazionale della rete cioè i nodi che hanno più potere computazionale vanno a determinare il consenso e questo dato che il potere computazionale si suppone sia una risorsa distribuita decentralizzata come la vogliamo chiamare questo mi rende resiliente dagli attacchi di una particolare entità quindi è come se avesse una rete resiliente che è forte contro i singoli individui che provano ad attaccarla se poi il 60% dei nodi si mette d'accordo e utilizza tutte le loro CPU per fare una blockchain specifica per fare un fork specifico su quel tipo di attacco non posso fare nulla ma se la maggior parte dei nodi sono onesti questo tipo di processo è proprio questo processo computazionale che rende praticamente impossibile modificare la diciamo long term la struttura della chain perché perché magari un attaccante può avere fortuna e indovinare il successivo blocco ma poi quello dopo ancora lo indovinerà qualcun altro perché prima o poi questo processo diciamo è abbastanza uniforme chi lo indovina proprio perché non c'è un modo per barare tu devi fare questo lavoro questa è anche la ragione per cui in realtà fare magni in consumo e elettricità è anche la ragione per cui da quando è uscito blocco diciamo bitcoin si sono sviluppati tutta una serie di circuiti hardware per calcolare più velocemente le funzioni shah perché ovviamente se io calcolo più shah al secondo diminuisco questa tempistica però ovviamente la generata di bitcoin è che non è che semplicemente il valore del target è fisso nel tempo perché se il valore del target fosse fisso nel tempo allora rispetto a quando è stato definito da nakamoto all'inizio ora palesemente quel target lo si becca subito molto velocemente e quindi il valore del target cambia in modo dinamico a seconda di quanto fondamentalmente si è messo negli step precedenti cioè si fa una specie di media tra la tempistica del mining del passato e si cerca di aumentarlo o diminuirlo cioè di rendere la sfida più o meno difficile a seconda del passato recente quindi si fa una specie di media e quindi fondamentalmente questo conclude il video in questo video quello che volevo far vedere cioè la cosa che ci tenevo a mostrare è quanto facile è concettualmente questo meccanismo del proof of work e quindi quanto affascinante è anche il fatto quali sono le conseguenze di utilizzare questo processo non su un singolo nodo ma su una rete decentralizzata e distribuita come quella del bitcoin tramite questo processo si è in grado di ottenere una proprietà emergente che è un consenso decentralizzato e questo è veramente veramente fondamentale perché è la chiave del bitcoin dopodiché ovviamente per incentivare i nodi a fare questo l'incentivo qual è? è monetario cioè se tu ti trovi se tu ti fai questo lavoro trovi questo nonce che genera il corretto hash e che mi permette di avanzare la chain e dunque che mi permette di validare le transazioni io ti do dei soldi e i soldi te li do sia che te li generi in parte con una nuova transazione ad hoc per te e sia che tu li prendi da delle fee delle transazioni che stai validando così si crea una specie di market per validare le transazioni il miner ha un incentivo detto questo fondamentalmente una cosa che caratterizza bitcoin che è una valuta con una quantità di moneta finita che si sa già perché proprio nel planning di bitcoin fondamentalmente è stato definito esattamente qual è il massimo numero di bitcoin circolabile in giro e quindi questa reward del miner che prende ogni volta che fa il mining col tempo diminuisce quella dal punto di vista di nuova valuta generata quella invece dal punto di vista delle fee delle transazioni delle fee invece quella rimane rimarrà fino alla fine e anzi alla fine della vita di bitcoin fondamentalmente l'unico modo per generare nuova valuta è prenderla dalle fee delle transazioni e quindi questo è quanto quindi questo è il processo di proof of work fondamentalmente consiste nel calcolare tante funzioni hash una dopo l'altra variando un valore che è la nonce fino a quando non otteniamo un target tipo in questo caso stiamo ancora facendo difficoltà 27 e qui come possiamo vedere ci mette 45 secondi come ho detto in media il tempo proof of work per bitcoin sono 10 minuti quindi immaginiamo di portare questo che so a 150 200 quello che è magari è troppo non saprei sicuramente troppo 50 60 70 a un certo punto otterremo una difficulty bits che mette questo a 10 minuti e questo è il livello di difficoltà medio che ci possiamo aspettare in bitcoin spero che il video sia stato interessante e niente al prossimo video grazie